Cambiamenti climatici e salute Gli effetti dei cambiamenti climatici si percepiscono sulla nostra pelle, letteralmente. Vediamo degli esempi. Inquinamento dell'aria. Ormai abbiamo imparato che molto spesso i cambiamenti climatici derivano dall'effetto serra antropico, cioè dall'accumulo di gas serra causato dall'attività umane, combustione ed emissione di carburanti fossili. Tutto questo sporca l'aria che respiriamo e la nostra salute ne risente. Infatti l'aria inquinata contiene piccole particelle pericolose che possono causare conseguenze dirette e indirette nel nostro organismo. Difatti queste particelle possono penetrare nei polmoni e nel cuore e in case estremi provocare ictus e attacchi cardiaci. Rescono perfino a viaggiare attraverso il sistema circolatorio. Si pensa che l'inquinamento atmosferico provochi circa le 3,6 milioni ai 9 milioni di morti premature ogni anno. Per i fumatori o le persone che soffrono di allergia o asma, le conseguenze dell'aria inquinata sarebbero maggiori e quindi più dannose. Un altro fattore che provoca l'inquinamento dell'aria sono gli incendi, il cui numero aumenta a causa, ad esempio, di lunghi periodi di siccità. Il fumo prodotto dagli incendi è particolarmente tossico. Infatti contiene particelle di tutto ciò che il fuoco ha bruciato, tra cui anche sostanze chimiche nocive. Caldo estremo. Le ondate di calore possono essere letali. Secondo uno studio del 2021 pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, il cambiamento climatico è responsabile di oltre un terzo delle morti provocate dal caldo. Il corpo umano ha difficoltà ad affrontare temperature superiori ai 37 gradi, anche se dispone di alcuni sistemi per affrontare il caldo, come la sudorazione. Il problema però è il caldo costante e rimanere esposto al calore estremo per troppo tempo. I muscoli e le cellule cardiaci rischierebbero di essere danneggiati e il corpo non riuscirebbe a rilasciare adeguatamente il calore assorbito. Un caldo estremo può provocare stress e portare il cuore a lavorare più duramente per pompare il sangue nel resto degli organi. Un'eccessiva sudorazione invece priva il corpo dei minerali necessari come sodio e potassio. La combinazione di questi fattori può determinare attacchi cardiaci e ictus. La disidratazione dovuta all'esposizione prolungata al calore e all'eccessiva sudorazione può provocare anche danni gravi ai reni che hanno bisogno dell'acqua per funzionare. Per le persone che già soffrono di insufficienza renale il danno è ovviamente maggiore. Insicurezza alimentare è una delle conseguenze meno dirette dei cambiamenti climatici sulla nostra salute. Facciamo un piccolo esempio. I cambiamenti climatici attraverso siccità o forti precipitazioni che provocano alluvioni possono distruggere le rese agricole riducendo la quantità di cibo disponibile e al contempo rendendolo meno nutriente. Inoltre maggiore quantità di anidride carbonica nell'atmosfera può privare le piante di ginkgo, ferro e proteine, sostanze necessarie all'essere umano. Non poter accedere costantemente ad alimenti sani o a un numero sufficiente di essi porta alla malnutrizione, la quale a sua volta può provocare insufficienza cardiaca, cancro e diabete. In un altro podcast approfondiremo le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla sicurezza alimentare. Malattie infettive. Il pianeta si surriscalda provocando l'aumento del numero di zecche e zanzare nelle zone geografiche dove vivono. Questi animali sono vettore di diverse malattie tra cui il virus zika, la febbre dengue, la malaria, l'encefalite e la malattia di Lyme. Inoltre questi animali si stanno diffondendo in zone dove prima non esistevano e le condizioni climatiche come l'umidità possono avere un impatto sul ciclo vitale delle zanzare e favorire la loro diffusione. In più i cambiamenti climatici stanno aumentando il rischio di malattie che possono essere trasmesse attraverso l'acqua come il colera, la febbre tifoide e i parassiti. A volte questo succede se le persone entrano in contatto con le acque alluvionali sporche, altre volte invece anche a causa della siccità, ad esempio quando le persone non possono lavarsi le mani o sono obbligate a bere da sorgenti d'acqua dolce più rischiose. La salute mentale non è da sottovalutare. L'inquinamento dell'aria, la diffusione di malattie e le ondate di calore non hanno risvolti solo fisici ma anche psicologici. Facciamo però un altro esempio. Gli incendi o le alluvioni spesso causati dai cambiamenti climatici distruggono case, abitazioni, supermercati, farmacie, scuole, strutture sanitarie e luoghi di lavoro. Di conseguenza le persone non hanno più un posto sicuro dove vivere, perdono il lavoro, non hanno accesso all'istruzione e rischiano di non ricevere assistenza sanitaria in strutture adeguate. Non avere più una casa porta anche a dover pensare a future spese economiche. E' da non dimenticare che questi disastri possono essere letali e le persone sopravvissute a volte devono fare i conti con la perdita dei propri cari. Tutti questi fattori possono portare a grande stress, ansia e angoscia. Non si può perciò non parlare di gravi conseguenze psicologiche.